Se sei alla ricerca di voci professionali per i tuoi progetti come video, spot radiofonici, pubblicità, audiolibri, presentazioni aziendali e tanto altro, ho qualcosa da farti ascoltare. Utilizza la mia voce narrante per trailer, documentari, tutorial e audioguide. Io invece potrai dare voce ai tuoi lavori o raccontare di più sulla tua azienda. Per spot pubblicitari o video credo proprio di fare al caso tuo. Scegli su astracom.it doppiatori professionisti per le tue realizzazioni. Acquista comodamente online e in maniera veloce e intuitiva la registrazione di cui hai bisogno. Puoi ascoltare le voci degli speaker e selezionare quella più adatta al tuo progetto. Licenza estesa per tutti gli utilizzi, radio, tv ed internet. E per registrazione in lingua straniera non preoccuparti, puoi selezionare la voce fra moltissimi speaker professionisti madrelingua. Astracom. Le nostre voci al tuo servizio.